Qualcosa si può fare, non è tutto questo, perché qualcosa si può fare. Sì, sì, come c'è? Ma la stai zegna di mettermi in giro? Sembra un'ora dal cartoccio con tutta la staggola. E vabbè, dai, andiamoci a fare, togliamo queste cartiglie. Ah, sì, quelle bisogna togliarle subito perché la vita si brucia i capelli. No, 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 adesso ci pensa lui, sei il fratello della parrucchia. Sì, sei il fratello, ho fatto la carta. Per una vita, no? E quindi? E quindi era un esperto. Ah! E' bravo che si sa metterà il tutto. Sì, sì, sì. Sì. Cerca un tutorial. Bravissimo, bravissimo. Oh, basta. Ehm, guardate, come faccio a giocare? Senti, ti ricordi? Dice che colore ti ha fatto. Allora, ha detto, status, bobbond, le deve importare il carno, sì, non è un medicolo.